ciao bentornato al programma tv di oggi con notizie come romina carrisi non si nasconde più il suo nuovo amore è ormai di dominio pubblico galeotto fu lo studio di serena bortone l'avvenente figlia d'arte romina carrisi sembra aver trovato finalmente la propria dimensione lavorativa nel programma oggi è un altro giorno in cui milita da anni investe di affetto stabile ed inviata la giovane figlia di romina power e albano carrisi è reduce da parecchie vicissitudini personali che ne hanno segnato profondamente l'emotività dopo la scomparsa della sorella ilenia nel 1994 ha infatti assistito alla distruzione della coppia genitoriale e dal successivo divorzio romina carrisi inoltre ha recentemente ricevuto alcuni attacchi in rete da parte di alcuni haters che la definivano una mummia nel contesto di oggi è un altro giorno frecciatine a cui la figurante ha risposto con vivacità sono perfettamente d'accordo con te ha replicato romina ad un detrattore girerò il tweet ai capi autori sono loro a decidere cosa fanno gli affetti stabili in puntata non noi vorrei che questo fosse chiaro purtroppo se provo a prendere iniziativa vengo bloccata l'affondo inaspettato agli autori di oggi è un altro giorno in ogni caso non le impediscono di intrattenere un rapporto preferenziale con il regista del programma si tratta di stefano rastelli con cui la giovane carrisi avrebbe stretto da mesi una relazione romantica romina carrisi e stefano rastelli spunta la foto su instagram la coppia si sarebbe conosciuta dietro le quinte di oggi è un altro giorno consolidando poi la relazione al di fuori delle telecamere rai durante un cena in un ristorante di maccarese il professionista 52 n già padre di due figlie avrebbe coinvolto romina in un bacio scherzoso approccio che in seguito si è evoluto in un rapporto più profondo e complice romina stessa ha rivelato a verissimo stefano rastelli è un uomo incredibile non pensavo esistessero uomini come stefano è buono è molto buono e mi ascolta che è una dote molto difficile da trovare negli uomini mi ascolta in maniera sincera e poi c'è sempre la sua storia con il regista di oggi è un altro giorno ha ricevuto la piena benedizione della madre romina power che ha verissimo ha rivelato inoltre un retroscena che la lega al padre di stefano rastelli la reazione di romina power la cantante ha riferito a silvia toffanin è molto simpatico vedo lei felice e rilassata molto più sicura di sé da quando è innamorata quello mi fa piacere non deve piacere a me romina power ha inoltre confessato nel lontano 1968 il padre di stefano che è vittoriano rastelli ha fotografato mia mamma e mia nonna in vasca da bagno fece uno scandalo pazzesco all'epoca però noi eravamo innocenti grazie per aver guardato l'intero video la notizia è qui per finire mettete mi piace commentate in particolare cliccate iscriviti al canale per ricevere le ultime notizie ciao e ci vediamo nei prossimi video grazie a tutti I am waiting for the dumb cause I can't wait to piss the sun cause I believe in the